Non lo so ragazzi ho bisogno di una cosa, visto che ho cambiato impostazione, se c'è qualche problema, lei ve lo dite. Si, diciamo di sì, che è il terzo. Sarà ben secondo, ho visto che gli speciali sono calcolati come secondo, sarà ben terzo. Quarri, la heraldi della scuola, è il doppelganger, il polizio, mister scraccia. I'll catch you eventually Maybe But what are you going to do then? By then I'll have had my hands on everything you love The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality He has come to fight a decisive battle in Night Springs But I'll have to see something else Vabbè Albany Nigga, do we start with security? Buena Eh, sì, sì, peccato per la voce italiana Però vabbè, noi non ci spaventiamo, ragazzi Ma... Ma... Ma non c'è altro qua Consumo subito tutto Vabbè, questi cazzi Afferra la pistola Dove cazzo è la pistola? No, vabbè, la grafica è migliore Oh, mi diciamo Dai, grafica è migliorata di brutto E questo? E un altro Dì Un altro Dio Sì Dio 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 Err Senti l'americano L'americano stretto L'accento americano Dove dobbiamo andare Là in fondo Ok Esplora il motel Anche bello Sono cambiati le skin Dei nemici Dico vogliono la mia pelle A volte la migliore azione è fuga Le aree ben illuminate possono offrire il riparo dei nemici Va bene Però io sono un pro player Gli sparo Ops Mi vado male Pezzi di fango Oh già la doppietta Va che figata Ammazziamo anche il poliziotto Ok c'è il motel Dovemo esplorare il motel Trovo un riparo nel motel Per fortuna sai l'inglese Beato te guarda Allora A posto sicuro Formato da luce brillante Di consiglio di coprire l'energia Ok Ah loro vengono qua Capito Non gliene frega un cazzo Cos'è sta roba? Blocca le casse di armi Trovando le pagine manoscritto Quindi non la posso aprire adesso Ah devo sbloccare tre pagine manoscritto Ok Ah li cerchiamo Ah già li siamo qua Gli diamo un'occhiata Un cazzo a sta parte Quelli rimangono lì però Perché c'è la luce Vediamo se funziona il telefono Ok Per lustra il garage E questo che cazzo ci fa qua tutta sola? Io non me la ricordo Emma Che cazzo era Emma? Io non ho trovato una pagina Non ho mai visto come si è venuto Era tutto questo strato Sobre l'energia E un satelite Sì E' quello che ho cercato Oh Non so come lo sapevo Avevo l'energia Ma credo è il vostro Scusate Che cazzo è tutto C'è questi ragazzi Che cazzo Che cazzo di armi Cazzo di armi Cazzo di armi Vediamo la pagina Quindi vediamo com'è Basta leggere Ok Allora Ti è venuto per passare La sparachiodi Fammi capire La sparachiodi C'è ma allora è più potente Una pistola Di una sparachiodi Vabbè Proviamola Allora Trova i tre oggetti Per iscrivere la realtà Va bene Vediamo se c'è qualcosa qua Ah vedi Allora ci siamo mai incontrati Sure we have Mr. Wake Remember you stayed At the motel here No The guy you're talking about Just looks like me Even if he uses my name He's behind all this trouble Oh I thought Um Now that you mention it I guess your aura Looks a lot nicer Than his actually I'm very sensitive To things like that There's a bunch of stuff I need to find The things mentioned On that page Well There's a lot of old crap Lying around this place Great I think you should be able To find everything Except the satellite Obviously Are you gonna tell me What this is? I don't think That'd go over too well Why don't you let me Be the judge of that Fine The page is a formula For rewriting reality Either I use it To close a strange portal To a place That isn't in our world Or shadowy serial killer Monster things Keep pouring out of there Yeah You were right The first time You can think What you want about me But there's still Little bad guys around Be careful Well you might be Nuts But I've seen the way They move The way they look I'll buy that Call taken They aren't really human Not anymore They're climbing out of the oil well What do they have Secret headquarters down there or No No that's Just another point of connection It's a hole that leads to Well It's a really nasty place That's why I need to close it And the guy who looks like you Opened it Because he was hanging around The oil field before He gets around Unfortunately Thanks for helping me Oh I wish I thought you were Just a nutcase Actually I kind of Expected you to Me too But I feel like This is how it's supposed to go Isn't that weird? Not really I get that a lot In my line of work What do you do anyway? I'm a writer Obviously Ma baffanculo Cosa decida Proprio la mia Ma che cazzo Me ne prende la tua Aurea Allora Ce n'è una di qua Andiamo di qua Prima Custom engineer To destroy The dark portal If he recreats The conditions of the page A great power Will be unleashed Ma non credo Che si apra un cazzo Adesso Andiamo avanti Andiamo prima Le stelline Va Ah qua c'è Un'altra sezione Di night spring No no Ho preso La sparachiodi No no Ho preso Non sono molto Buongiorno Con i gadget Ah 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 Che cazzo sta facendo Cazzo sta facendo Tu non è cappucciato I just gotta do this one thing I like it quiet I bet you're wondering Why this is happening Why am I doing all this Why am I so hell bent On ruining your life You're cramping my style You've got money Fame Everything you could want But you don't know what to do with it I do I'm getting all the things You never had the balls to go for Che parlo con me stesso Anzi Lui che sta parlando Com'è a dire la verità C'è me la matza I'm not afraid to be the center of attention This poor slob is just collateral damage really I mean I made some information out of them earlier But this part This is just for kicks Che l'ha seccato con la sua cravatta So quiet Però Ho visto qualcosa che l'uminescenza I know that when I arrive The clarity of vision I have now May disappear I've made my plans I've prepared for this But I know the transition from the dark place Will be hard on me And not just physically It may affect my mind My memory These pages should help me remember and focus That's worked for me before Even if that fails I think I will be able to trust my instincts I'm navigating my own story I'm hoping I'll know where to go And what to do Even if the details elude me Come al solito Criptico Allora c'è una pagina Alla in fondo anche La mia Siamo sui due obiettivi correnti Specificamente Ok Alla mi sembra che ci sia un'altra Ne dovevano trovare tre Per sbloccare le armi Giusto? Questo che cazzo è? Ah questa 10 addirittura Vabbè visto che l'abbiamo trovata La prenderei anche La pagina del monoscritto To change reality You nudge it Into the right direction Your version of it is there Waiting It wants to come true All you need to do Is help it achieve its potential The devil is in the details You change the details of the scene To match those on the page If you get the details right If you achieve that critical mass The shift will come And the rest of your new reality Overrides the existing paradigm The lie No matter how outrageous Is now the truth Is now the truth Vabbè andiamo a prendere Questo qua allora Già che siamo da sta parte Oh wait Wait Oh La solita fortuna Eh sì ma Perché cazzo Ah mica è una mitraglietta Cazzo Mica tanta roba Tanta roba È una mitraglietta Tanti gli effetti Ok abbiamo preso la valvola E una E apri dagli altri due Va Però io così Per non sapere leggere Né scrivere Mi vado a prendere Un po' di Le abbiamo tre pagine Giusto Quindi in teoria Questo qua Possiamo sbloccarlo È la mille chiodi Allora in teoria Questa si può sbloccare Ok Alla mitraglietta Si sono Si è evoluto Ragazzo Ok Andiamo verso Gli altri due oggetti Della storia Che ti ho visto Che passa Di last room Che cazzo è il mech Che cazzo è il mech Ti ho sbagliato anche qua St'arma Ok Ok Batterie Là c'era quello Da dieci Ma cazzo si entra Ah dall'altra parte Quello che l'era Meno male che ho sbagliato Ah si divide in due Beh mi tagliate tanta roba Ah That was just messed up That's everything The man has found the battery But it is empty It will need to be charged Che cazzo è il mech Che cazzo è il mech Che cazzo è il mech Ma posso correre quanto voglio Non si stanca Più semplice Che cazzo è il mech Che cazzo è il mech Chaci Che cazzo è il mech Cazzo Che cazzo è i i miei ricordi sono un piccolo ragazzo ho avuto un tempo abbastanza brutto era come essere attaccato in un tsunami l'ho scusato per un tempo è difficile di raccontare c'è una barriera di tipo che ho avuto per riuscire ero felice di farlo qui con i miei amici così intatti che sono quindi potresti avere dapperti potresti fare cose grandi con un pezzo magico di paper e venite qui da un'altra dimensione? no, ero in New York ero solo a visitare un'altra dimensione oh, sì, ok mio bad qua c'è altra roba ok 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 va a barfanculo stavo girandolo facciamo così questo lo usiamo per quelli grossi per quelli piccoli rognosi credo che vada più che bene il cuscire abbastanza semplice adesso per ora è abbastanza semplice per passare a revolver ma non ci penso minimamente ma le cose ma le cose le trovi con la minimappa l'ha detto prima solo che è molto più facile del DLC quello poco mi assicuro a meno per ora cos'è sta porcheria? ah sì cosa no si cosano così? pezzi di merda il video è il momento di fare qualche cambiamento seriosi allora il rinvento era a suo posto il petrolio scurreva la batteria era collegata e le luci di ampia il cd sonnava nello stereo ah quindi riproduce il cd ok ok dobbiamo mettere bisogna mettere la ok 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 qui alla prossima qui è che è che che ha Bell' danno! Uggi dall'istruzione! Torna da Emma! Ok, torniamo dalla nostra amata Emma! Vabbè, sono dei cartelli per accoltarci un po' più del primo. Ciao va, io mi faccio lo stesso in piedi. Sì, credo che ho sentito più di loro! Sì, credo che ho sentito! Sì, credo che ho sentito! No, non è vero! Non è vero! Ok, non è vero! c'era una partita in una delle domande, era abbastanza wilde, non sono sicura di quali domande c'è. Non c'erano? Non, non c'erano. Mi sono troppo da mano. Inoltre, ho sentito che è venuto al diner, e c'era una combina là o qualcosa. Potremmo potremmo trovare più da lì. Ho, 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 ho potremmo alcune chievi che potremmo usare. Tu solo hai alcune chievi, eh? Bene, faccio vedere, resta qui. E questa qua con i mostri in giro, ho capito, ma per il cazzo stavo continuando a lavorare. Stai bene? Stai bene? Stai bene. Grazie per la scuola. Questi sono i, come si chiamano? I take-in? Cosa sono? È complicato. Una corta versione, la scuola può prendere le persone. E' per questo che ho avuto di distruttare l'olio, Derek. Inoltre, avrebbero avuto l'interno. Wow, non pensavo di farlo. Non pensavo di funzionare. E' vero. Ah, tu resta qui dentro e non corrono rischio. Un'altra volta, al rischio di siano come un record rompito. E' vero qui. Non voglio che ti sbagliare. Devi restare in giro. Sì, mentre ti turnare questo posto in un inferno, riuscire a scuola e spiegare le cose, e spiegare qualche tipo di giro di giro, con i tuoi figli psico-evili. Non mi sai, sei buono per un giro. E' impressionante di tutto questo, ma è sufficiente, è sufficiente. solo voglio fuori da qui, ok? Navigate un po' troppo. Ok, punti di controllo raggiunto. Andiamo a vedere sta... Diner, come si dice? Ah, ok. Ecco il postergate che fine li facciamo fare. Guarda là c'è un'altra pagina del diario. All the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on earth given the chance. Raga, la live è a posto. Si vede bene, non scatta e roba del genere. Ciao Stefano. Ok. Va bene, andiamo, andiamo... Oh, c'è un'altra di pagina qua, no. Queste munizioni. Ok, ok. Imponiate che vada bene, raga. Mitraglietta ce l'ho. Uccide ce l'ho. La mitraglietta lo usiamo per quelli grossi. Ci sono i ragni. Ok, abbiamo che fare con i ragnacci. D'accordo. Grazie. Grazie che t'ha. Qua mi sa che è meglio usare una mitraglietta, però è così a spanne. La scena. Trai oficina di violenza. Un grande sbattino di sbattino. Un chass, un chass che trovi da teore. L'hanno che offre del genere... Le ragazze di gioco viacinare... E a você! Qua sono le chassi per i gioco di vissi? C'è un chassi che posso examinare? Co ci c'è da examinar? Ok, esploriamo le stanze del motel Quindi in teoria dovremo tornare indietro Però prima guardiamo qua dentro che cosa c'è Credo niente Vedere mai No cazzo, andiamo Però è strano che non posso guidare nessun mezzo Vabbè Emma Sloan era un credente in un grande numero di cose La maggior parte di cui erano completamente fallaciose Bella Cosmo Sono un po' sezzati di Emma Se lo andiamo a salvare Pezzo di merda Sempre alle spalle Fia, trappo sgravi a sta arma Pezzo di merda Trappo sgravi a sta arma, raga, dai Fica, fa schifo, non la uso, dai Troppo, troppo sgravata Ciao caro Allora c'è questa stanza qua Però prima andrei a prendere munizioni, così A sbaffo E' un po' sezzato Michael Farabee Morto Torturato Dressa in clothes that bore the name of a local observatory A slim lead But solid enough It stirs something deep in his mind He knows where to go now The observatory Hot on the heels of the Herald of Darkness The Champion of Light forges on To see the stars Il battaglio del Monte Red Tutta Arizona Ah, siamo già arrivati A place for a man to witness the magnificence of the universe But such insights are not what the champion of light is looking for He has come To find a weapon Ah, cazzo, li ho trovati subito Neanche... Ok, ho avuto culo Ok, va bene Come mai? Perché avevo smesso di streamare quasi Ho fatto un mese senza streamare per Xcode E poi invece ho deciso di riaprirne un altro Ma cos'è? D'accordo Allora Entra in l'osservatorio principale Che cazzo da fare? Seguiamo la strada Esploro un po' per vedere se trovo qualcosa Ma Credo proprio Bene, vedi Queste sono le armi, bro Vedi? Compre meglio guardare un po' in giro Non abbiamo il pompiere Tipo isolato Comunque sono nettamente più facili del primo capitolo Ma proprio tanto, tanto più facile Ripeto, per ora Perché magari poi andando avanti è un disastro Proprio per ora è così Ah, sono... Sono full bengala? Luta Prima si luta Poi si baita No, all'incontrario Prima si baita E poi si luta E poi si luta Ehm... Vabbè, seguiamo la strada Comunque come narrazione meglio Per ora meglio Alan Wake Normale Molto, molto meglio Fatto meglio Ah, là c'è luce Dove c'è luce c'è qualcosa Dove c'è luce c'è speranza Qua c'è altra roba Dove? Dov'è che non l'ho vista La pagina del libro? Quindi è 40 pagine Dov'è la pagina del libro, Pietro? Sotto? Era giù era Ora Da qualche altra parte Nella strada sterrata Sì, mi faccio un giro Mi faccio Magari ci sono anche di qua Perché di solito Sono luminescenti le pagine Eh, la salva Eh, la voce italiana narrante È una mancanza Quello sicuramente, ragazzi Però vabbè Che cazzo ci dobbiamo fare? Siamo un popolo secondario Ciao, Salvatore Allora, Pietro mi ha detto Nella strada sterrata Qua Fra poco Però Eccola qua Dove cazzo sta Miglia che ho Pietro Trouble I could scare up I wallowed in the drama Of my life Sure that Alice Would stick with me Even though she didn't sign up To be the lifeline Of a tortured artist It was my dumb luck She's not the type To give up Pietro sta imparando da Alvin No, non credo Pietro è Pietro E Alvin è Alvin Pietro è un osservatore Oh, devo suonare Ah, un altro pompiere Poi chi c'è? Figlio della merda Dal conto Il peone Peone Stricca Questi fratelli Erano molto più forti Ok, fammi entrare per questa strontata Go away It wasn't me I just look like him Are you serious? That's what you're going with? Please I'm trying to stop him You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine Yes Yes, he did All right Come on in Come on in Oh, guarda quanta luce Guarda con la dottoressa Mi 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 Hey Buddy Hey Buddy I think I'd take a moment to talk to you There's a party next door I'm feeling pretty good right now A little beer A little fun, you know It's nice Caffa squale Alla week 2 Si chiama American Nightmare Il secondo titolo Up here I know you, right? So I was thinking maybe we could Comunque Alan ha se dei problemi Dei grossi problemi Non è nuovissimo il gioco Pasquale Anzi diciamo che è un bel po' datato Vabbè se hai finito di parlare io andrei anche C'è un po' di fretta Ah no 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 C'è l'uno Ci sono due episodi speciali Poi c'è questo Gli altri li abbiamo già fatti E' impazzito? Vabbè è pazzo quello sicuramente Che c'è di bello il 25 marzo? Never mind Ma vado via? Cazzo sta facendo ancora da Ah mica sta pestando uno Evelyn Inside? Se non l'avamo visto Alvin non l'avamo visto Evelyn Inside Ma esce il 25? Ah fatto da Kojima Sì sì Kojima lo conosco come autore Eh ma ce lo faremo anche noi probabilmente Vabbè fammi capire cos'è Devo andare sopra? Come cazzo ci arrivo sopra? Dalla pedana? Qua c'è arrivo su da questa pedana qua Parla con la dottoressa mea Ok Bene Mi fa piacere parlare con la dottoressa Ma volevo capire come sta a dire Ci sono scale che non vedo C'è un ascensore giù che non ho visto Può essere Ah perché vedi qua i cessi non si possono aprire Ho giocato la demo Io? Perché sai che non mi ricordo? Oh tu hai giocato Perché non l'ho capito Se l'ho giocata io l'ho giocata te Vabbè signore Per salire di qua Ci deve essere qualche strada che non vedo Ah guarda Vedi a me queste cose mi possono incazzare Perché non c'era una luce che ti diceva di salire qua Cioè in All Awake c'erano le luci Per farti vedere la strada Vabbè Per la gioia di Jonathan Una dottoressa stentata Stimps4xbox Un signore C'è quello che mi interessa Giocheremo Giocheremo Se inquietanto sicuramente parta per il canale Lei tiene una bella riserva in macchina Dimmi qualcosa No vabbè Gianluca ci sono giochi molto più inquietanti in giro Guarda l'isagere E alcuni non le porto perché non ho voglia di giocare Le giocherò più avanti Ti vai sempre così per andare al lavoro I have to ask Do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition Fascinating works When I was called away by my assistant Michael was the first to spot this event I don't know where he is now actually He was supposed to bring us some food But he never showed up Tell me about the event Oh it's quite fascinating It looks as if stars were changing Somehow Or shifting positions It isn't really happening of course Most likely it's caused by some kind of Atmosferic refraction phenomenon But I've never seen anything like it Il signor Graffio ti ha fatto del male Ah ok ok Ma difficilmente parlo delle donne brutte Ne video game Allora prendi la matrice dei sensori Qua non c'è nulla da prendere di bello Libro Va bene andiamo a prendere la matrice va Good luck And try to be careful It's a very expensive part And we don't have a replacement Oh dear That sounded more callous than I intended Be safe It's safe Dove entrare qua dentro? Credo sarà dietro Ci sono i ragni Chica che fastidi Ragnacci Ne sono un po' in giro girando Bella, 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 bella Salva Guarda come cazzo Aspetta che poi Ma guarda che schifo E ora come saltano? Ma non muoiono sti cosi? Eh mica sono duri da ammazzare Eh mica sono duri da ammazzare Mi fico riconosciuto Non avrei avuto pazienza di giocare Con me non sono strani come me Ridicola furia Grazie Beh no ma figurati Non è un problema Non dovevi assolutamente farlo Per sta roba Te ne sono riconoscente Grazie Però ho un po' di schifo Per i ragni E mi brutti già la spalla Va bene va bene Li abbiamo isolati Perfetto Ce ne possiamo tornare dalla tipa Torno al telescopio Va bene Ah mica Devo usci Devo metterlo su Ma io ci devo andare Entro con l'attrezzo qua Adesso moriamo dai Insta la matrice Spredito ce l'hai fatta Fammi seguire il radio test diagnostico Vabbè Allora siamo pronti Siamo pronti Vediamo un po' di schifo Poi stasera se ci sei Giochiamo ancora Intorno a mezzanotte Mezzanotte e mezza I have to shut this down Vengo da te se qualche domanda Allora usciamo prima Facciamo prima quelle più lontane Apri il valore del refrigerante La seconda è di là Cosa c'è quel punto di domanda? Ah perché c'è una pagina Mi faccio una paglia al volo Comunque vedete io adesso il primo Secondo me è stato un piccolo gioiellino Perché era narrato da Dio In italiano con le voci in italiano Sottotitolato in italiano Io non capisco perché il numero 2 Abbino deciso di farlo solo sottotitolato in italiano E con i test in italiano Che cazzo gli costava Allora mettere un traduttore Almeno per la voce principale Poi per il resto sti cazzi Questi erano troppo belli letti da loro Siamo proprio un popolo di serie B Cazzo incredibile Meno su videogame Poi un'altra roba Tanto di cappello Però come videogame siamo proprio Non siamo messi benissimo Allora di qua abbiamo detto che andavamo giù di qua Guardali loro Che comunque sono molto più teneri Ma proprio tanto più teneri Del primo capitolo Ok andiamo a aprire l'altra valvola Che sarà l'altra cupola credo Allora si stanca Anche qua si stanca Brody no Allora si stanca I've carried a flashlight and a gun For so long that I feel naked without either It's all too often that I need them The darkness protects the taken Shadows crawl over their forms like living things Protecting them from harm Blows that would injure or kill a human outright Mean nothing to them As long as the darkness persists But light makes them vulnerable Light burns the shadows away The darkness that drives them Is still in them But now they're vulnerable Flashlight and gun Sometimes it feels they're all I have left L'autore dei film horror La saggista Dov'è che è la roba qua? Ok That should do it Ma potrebbe anche essere che non ci credevano Però Il gioco ha avuto comunque un buon successo Forco il clero Oh Beh, alcuni sì, in linea di massima ti do ragione, però ci sono alcuni secondi capitoli, chiamiamoli così, che sono molto... Ia, 40 pagine qua ci vogliono. Sono molto ben fatti. Che palle, però. Il carabine è troppo potente. C'è due colpi, le secche. Beh, Alien sì, tanta roba, via, dai. Sai che c'ho voglia di... L'ho finito 11 volte, Alien, lo riporterò a breve sul canale, ragazzi. Magari lo porto in Nightmare Incubo, adesso vediamo. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. Ah, ancora vivo, sei pezzo di merda. Ma come resisto? Che cazzo significa resisto? Guarda, guarda, aiaiaiaiaiaiaiaiaia. Sì, sì, sì! Ma no, lo riporto sicuro, adesso il tempo che mi organizzo un attimo lo riporto perché comunque è un titolo che a me piace tantissimo e odio il discorso che non hanno voluto fare il secondo perché non è stato apprezzato dalla massa perché era in programmazione il secondo capitolo di Alien e io l'avrei finito una decina di volte ancora in ogni modalità possibile. Ed è un gioco tosto fatto da altri livelli, eh? Non come se non so, non so come se non so come si è venuto, ma è interagire con il nostro sistema, come 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 era intenzione per noi, ma non capisco come questo potrebbe essere. What? Cosa hai scoperto riguardo il cielo? Sì, schiatrano più facilmente però se gli togli l'oscurità. Comunque sono, almeno per ora, sono abbastanza facile. Ho trovato veramente tanta difficoltà nell'altro capitolo. Raccoglio, ho stampato il segnale. Cazzo l'ha messo? Sì, le anni cinquanta, queste cose mi piacciono, per esempio. In inglese ho parlato di un'azione corretta da possibili, è abbastanza. Non c'ha, non c'ha cadezza. Esplora il drive-in. Vabbè, location standard. Vediamo che c'è intorno. Là che cazzo c'era in fondo? Una pagina? E' una pagina? Guarda che cazzo non è imboscata. Ah, c'è una granatiera allora. Però, ovviamente, non c'è un'azione corretta. Non c'è un'azione corretta, non c'è un'azione corretta, non c'è un'azione corretta. C'è un'azione corretta. Non c'è un'azione corretta. E' un'azione corretta. E' un'azione corretta. E' un'azione corretta. Vabbè, puto. Vabbè, sono corretta. Oh, è tu? Mmm, è fantastico. Mmm Oh, ok? Okay? I-I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I-I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on It's not allowed You said So where shouldn't I go So I don't turn the power back on Accidentally It's the big building On the other side of the drive-in But it's locked Where's the key Just so that I know to avoid it It's on the wall Next to the cash register But you can't You can't Don't be bad Hey no problem I'm just gonna go do some other stuff Scout's honor Parla di dupe Non ti esprimi È meglio Just try to stay calm I've seen this kind of thing before I think you're gonna be okay Why did I Why is it so hard to think And we're back With all gods of Asgard And their manager Barry Wheeler Guys you're undercuting Come back tour And you're playing A lot of your classic material But you've also got A new single All right How did they come about Hey Just in case there's a part of you in there That's freaking out right now It's not your fault I promise I'll do what I can To help you Okay I don't Please go away The man has encountered this before People whose integrity Has been suborned by the insidious touch of darkness Qua c'è una pagina Da qualche parte Guarda dove cazzo è Darkness in his brain Siamo a livello satanata Più che satanata Era già pronta Io già mi stavo immaginando Quando si è abbassato Ho detto F*** Ho metto in pausa Poi niente Io non l'ho mai giocato Sto titolo ragazzi Ok Ripresti in alimentazione Va bene Sono in blind run Sì Guarda che c'è Il vecchio bastardo Eh ma non gli fai tanto male Alvin Senza E questo è umiliato 30 pagine Ah non ce l'ho ancora 30 pagine Ok Oh look Mr. Hero's here You ready to save the day? Eh? Quessi si dufficano? Belli loro! Beh, le canzoni sono comunque belle. Sì, sì, è lui, è il DMR. Mi devo segnare queste canzoncine che sono molto belle. Quessi non mi piacere ora? Ok, questo è il DMR. Tu ti fai capire quando hai capito che ho fatto. da che parte andiamo di buono cazzo sono i serpenti assonagli ah lì c'è un'altra che caracottare i cazzi 20 pagine non ce li ho fucile d'assalto qua dentro è qua dentro bella salvatore andiamo a fare il checkpoint ho un'altra bella pagina è bravo a parlare è un bel tipo Alan è un bel personaggio bravo la mia mogliettina capace di capirmi lina mi fai il caffè nulla è qua ok ok dovrei poter capire questo quindi ah probabilmente devo causarli non mi piudo molto di sta roba ecco perché no eh non è questa la strada merda poi ci saranno nemici vedrai accendi le luci del gabbiotto di guardia d'accordo ecco ecco dove cazzo sta? ah devo uscire di qua? cazzo non si chiude grazie ah di lì si esce dai no mi chiede anche di qua di qua di qua si esce no? ok perfetto tu non hai capito di quattro stai scruito sarà un belastro guardare te scegliere non voglio uscire di questi non voglio uscire di questi guarda questo, pensavo che non avrei mai giocato a coda ormai sono, oh guarda qua, mi sto tirando le granate, non dico che sia una pro forma però poco ci manca cazzo e ancora la grafica si vede che è datata è una pagina da queste parti fucile a carne mozza, ma anche no sono più dei sentine granate a terra sono molto più risenti alle granate però vabbè perché non è passato a fai chi e stai è buono no, non oh, non è... è tu è... è tu è tu ai aiutarti? sembra che sei più bene sì, sono grazie molto non so cosa succede e c'era... questo ragazzo prima di dire qualcosa sai che sembra come lui ma non non ti preoccupi non senti nulla come lui è stato nel mio cuore mi sento che ho bisogno di prendere cinquecenti cinquecenti questo ragazzo voleva entrare nel progettore era parlare di riempire cose per che il sole non arriva no, non sembrava così strano quando diceva era stato molto buono nel tempo tu non eri te stesso il progettore sembra proprio certo ho bisogno di entrare ho il codice di accesso per la porta qui grazie e io mi sento che sei arrivato ora ha detto che sarebbe tornato dopo aver arrangato qualche sicurezza ti senti appena di raccontarmi cosa sta succedendo? abbiamo un'escrizione di arte che dovrebbe aprire domani sono il curatore il mio nome è Serena Valdivia Serena Valdivia è ti senti se la 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 I... I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. Uh, it's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point. But she turned it into this... thing. It's a... almost like a memorial of sorts. Because, you know, you're supposed to be dead. Or... something. Aha. How's Alice? Is she alright? She's... okay, I guess. All things considered. I know her pretty well. You're really, Alan? I can't believe you're here. And then we're going to go for a while. And then we're going to go for a while. And there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like... you know. Yeah. But that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... There's something about him. This... God, he's so creepy. Anyway, you're not like him. At all. I hope you can stop him. I hope you can stop him. Yes, yes. For a while, we'll stop him. So, what do you say? There are also a lot of munitions in here. More than in the other episode. Do we go to the next episode? Do we go to the next episode? Do we go to the next episode? All right. In the location of the proyección. Do we have to be the light that I see in the bottom. That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm and a fat rent again. Do we go to the next episode? Take care. Sì, sì. Sì, sì. Sì, è abbastanza semplice nel fare le cose. Va bene, ripeto, fino adesso. Poi magari cambiano. Ma non lo so. Allora, la sera tardi, se adesso stavo agendo al termine. Quindi? Ok. cambia la data lo gosso ok perfetto vuol dire che non ho preso qualcosa oh hell this isn't going right you've been up to something haven't you too bad it's not going to do any good I'm a better you than you ever will be and I've got all the time in the world everything you've got is going to be mine your life your wife what are you going to do about it the sun's never coming up now I could keep this up forever show yourself whatever you say the rush of darkness time itself twists and tears sweeping the champion of light back with its dark currents again he enters the world but now he sees the track e non c'era un'altra difficoltà comunque cioè così o così non so c'è la mia al mio lato aspetta che cazzo è sta cosa qua che cazzo è è sporco il monitor che roba è c'è una striscia non so che cazzo sia la vedi anche tu Alvin ma è la striscia della sedia ma è la puttanazza del come fa a vederci vabbè se non mi voglio far domande strane ok lascia il canyon no non sono i bing no non sono i bing aspetta un po' vi avemmo andato a male porca troia ah si ci chiesto le armi dietro hai ragione hai ragione che peone stavo guardando e ho detto ma che cazzo è quella striscia là io non ci ho messo niente dietro vabbè e le tacche cosa vi devo dire qua ci sono i ragnacci non ho letto cosa dovevo fare bird again bird again ah vai a fa' un culo vai ah così la mettete ah ma non le posso ammazzare ok 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 va bene va bene non è visto ma io che li ho sprecati bingala per un cazzo sono qui due peone slivio oh ragà è vero guarda questo guarda lo sto figlio di nessuno dove cazzo è c'è una pagina qua guarda lo sto and you wouldn't be entirely wrong you would call mclown and i would reluctantly agree but he has never let me down d'accordo dove stai emma comunque per ora migliore la dottoressa abbiamo un'altra pagina che cazzo è la pagina era qua qua dietro come cazzo faccio arrivare qua dentro come faccio arrivare dentro forse dopo oh Wow, è tu, credo che tutto ciò realmente è successo. Tu mi ricordi? Sì, senti strano sempre al giorno, come potrei ricordare un sogno che ho avuto, e poi, appena prima di sole, ho ricordato la pagina. Sì, dovrei andare a prendere queste cose ancora. Non tutte le cose, sono venuto e ho ricevuto, beh, la maggior parte delle cose. Mi sento stupido a prima volta, ma poi è stato spettato, e queste cose iniziarono ad arrivare, e una di loro si tratta con la batteria. L'altra batteria, questa è un'interazione temporale. Si tratta in un'interazione temporale, è per questo che sta succedendo ancora. Mi credo in te. Dio, mi sento che potrei solo perdere ogni seconda ora. Come sei che non ti stai spettando a questo? Perché sui miei personali schiddi metri, questo non si tratta. Guarda, vedo qualcosa che mi ha fatto prima di... Tu sarai bene, se ti stai tranquillamente, ok? Grazie per aver guardato questo strato per me, è una grande giusta. Sì, spero. Quindi, dovresti rendere tutto in grado di acqua di olio? Ho dovuto. Beh, qualunque altrimenti potresti essere, almeno non sei sbagliato. Tre volte. Vabbè, si entrerà dopo. Questo è un altro... No, non è già Luca. Vediamo se questo è uguale. No, è un'altra, nuova questa. I know. They all say that, right? And she's given me the eye. So I make up a new two. We have a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to bed first. Uh oh, right? She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. This is the scene of the Iene. Mmm, that's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crabby day. Yeah? Don't worry. It's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting... No, Jonathan. A domani. Watch this. Eh, gli ha tagliato la gola. It's a fantastic job. Oh, no. Ah ha ha! Did you see that? Oh, man! Did you see her? Boom! Ah, oh, you have jump ready. Oh, gee jump for it. Oh, gee jump for it. Oh, gee, jump for it. Oh, no. To magic, deter. la musica è inquietante però e che cazzo sta facendo? ah ok finito va bene andiamo Anno a noi Now Night Springs is in Arizona although not for long it's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange perfetta analogia per Nightsprings I can't return to the real world, I've tried but I'm operating on dream logic forcing the door open a crack so I can slip through I can enter the strange little town of Nightsprings All I did was put it in Arizona for one night Ok, quindi la nostra creazione è anche Nightsprings Va bene Comunque sta arrivando l'alba, in teoria Well, this should be perfectly safe E guardate se non c'è nei ragni Now I just need her to charge this up Io scappo Così Eh no, questo non è Questo non è buono, eh 5, 6, 7, 22 ragni della merda Cazzo, ragni dappertutto Oh, che è sta roba Cazzo, ragni dappertutto Questa caszcio Ian dove cazza era? Sì Sì, credo È solo che questo si sta davvero scopendo Credo che questo è vero, ma non capisco Non so se stai scopendo 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 Ma ho avuto molto tempo per farlo Questo è giusto Il ragazzo che mi sembrava è il motivo che questo sta succedendo Mi sono accettato con lui, ma mi ha scoperto qui Sì, è una scoperta Siamo facendo questo per sempre, se non posso scoprire Come stai facendo questo? Sto lavorando, sono venuto preparato Ma le cose si sono scoperte quando arrivavo Sto trattando le cose che ho bisogno Sì, beh, senti libero di riuscire a tornare Nel tuo DeLorean o quello che ti faccio Ok, vai a giocatore per tornare a rischi della realtà Però prima ricopriamo un po' di ammo La stessa di prima del satellite, no? Dove c'è la musichetta carina Ok, vai a giocatore oh 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 oh! a guardare il jump, e mi stavano ammazzando! l'abbina rascita una pagina del manoscritto Ha rimanuto dal suo posto Il petrolio scorreva La batteria è collegata Lui ci lampeggiavano Ok Allora prima La valvola Avvia Ok La batteria è collegata Lui ci lampeggiavano La batteria è collegata Lui ci lampeggiavano Ah, non è vero La batteria è veramente fatta Già l'ho già visto dal piede. Brava, vai. Fuggi dalla distruzione, è quella prima. Guarda prima, ah no, c'è il satellite qua adesso. Prima non c'era il satellite o sbaglio? C'era qualcosa che va a succedere. Non è la cosa buona. Non è la cosa buona. Non è la cosa buona. Guarda. 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 Bastardi. C'è bene, è sicuro ora! è un ragazzo che ho bisogno di andare in il M. Redtooth observatore oh mio, è davvero è vero, hai, um, hai chiesto di sapere di chi che sembrava come sei, non? la prima volta che hai detto che hai una partita, ma non hai vinto no, non è vero, ho vinto, è stato davvero bello, è stato davvero bello, e poi non ho visto ho visto, ma ho sentito che si è diventato, ha vinto un po' di persone, e c'è una ragazza è vero, si è morto, ma non ho sentito a questo fino alla prossima, ho pensato che è stato davvero bello, e poi è venuto al diner, è vero, non ero, non ero coinvolto, non ero con questo, non lo so, non lo so, non lo so, bene, ho bisogno di guardare queste motel rooms, in quanto riguarda, restate qui, ok? sono vero, guardate le luci e restate qui qui, ok, hai capito, ho capito, spero che sei vero su questo, ma che cosa si io resta guardare? perché ultimamente non ero e quel che era, mi arrivo su quello che mi quest'unque? si non, non voglio che scappare non neidad, non mi perderemo, sto resta guardare. non ero non sono ne staccato non ricordo non l'atto, ma ho leggato la mia Ma che c'è di si chiede? Ancora sto lì facendo la stessa roba? D'accordo Diamo un'altra stanza un attimo E poi c'è un grino facile che non sembrava più facile o naturale sui miei occhi Il malecchio, malicchio, twinkle in gli occhi E io conosco chi stavo guardando Quando si riuscì e rivelò la stanza dietro, il mio cuore si è seco Non c'era nulla che potevo fare ma guardare Mi ha fatto prima Un po' casinata sta sto pezzo Ok ci manca l'ultima stanza Ma io potevo entrare da quest'altra parte Aveva il passportù c'era anche un'altra Un'altra pagina di manoscritto Vabbè Trovo il chio dell'osservatorio Un palazzo della luce Un palazzo della luce Un palazzo della luce E' lucente signore Cioè prendete mi fa fare la stessa storia Però con delle piccole modifiche Se non l'ho capita male io Ah vedi 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 Me le fa cambiare le cose Cioè sono piccole modifiche nella storia Cioè sono piccole modifiche Sì sì sto riscrivendo la sua storia Amica ma postiosa Questa che cazzo vuole As a storyteller my first real love Love was crime And it was in that genre that I finished my first novel Starring the perpetually miserable Alex Casey Whose entire life was a wound that never healed The books sold as fast as they hit the shelves I wrote five more Alex Casey books And they all were bestsellers I became rich I became famous Success brought pressure And I didn't handle it very well And I didn't handle it very well And I didn't handle it very well When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael Telling her to hurry to the observatory She didn't waste any time It had been a nice party She'd had a good time But her social life would always play second fiddle To the mysteries of space Michael never showed up of course He pulled over at the wrong rest stop She never even thought about him at the time The phenomenon in the sky above her Was too fascinating Let's see I think it's a good thing I think it's a good thing There are places where our world is worn thin And another reality brushes against ours One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington But there are others That other reality is dark, vast and malleable Always in flux In its depths dwell vast forces and alien energies They're dangerous But in one of these places If you know how You can channel the power of that place And use it to shape reality 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 Peccato, peccato per le narratore Ok, ce n'abbiamo un'altra qua dietro Credo di pace L'ho visto bene? No, c'è di qua I've seen the enemy And it's me I've faced dark horrors before Things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own Sometimes they masquerade as humans That's what ultimately lurks inside Mr. S*** He's every mean-spirited tabloid story about me An evil caricature A creature formed in that vague territory of misconceptions Half-truths and the dark imagination of people who heard a story about me An urban legend made flesh A serial killer My dark half Brought to life by the power of Cauldron Lake Ok La sua parte oscura Vediamo qua cosa c'è dentro Mica è fucile di precisione Anche no The darkness rose from the depths of Cauldron Lake And took Alice It needed words It needed me to write its way into our world She was leverage A hostage I complied But with a twist I put in a loophole that gave me a chance to fight back I was hunted by shadowy enemies But I faced the darkness I fought it with light I drove it back I saved Alice But it came with a cost I was trapped in the dark place below Cauldron Lake Ok Torno al telescopio Di qua si poteva salire Sì credo di sì Ma facciamo Volevo fare un salvataggio del cazzo Ok They knocked story This time She dreaming sintomi Dialect Sì Si Meg Sì Sì Non Sì 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 Qua ci sono i massimi e non posso salire, merda Vabbè, facciamo il giro da dietro Un precario Dai, poverini precari L'ho fatto per una vita precaria, ho proprio una vita di merda Un'altra pagina Stori come naturalmente to us We can't help it There are many different worlds Many competing realities within our heads Fueled by books, television Even barely remembered childhood tales There's an endless supply of fictional concepts More familiar to us than anything or anyone real We have a far greater connection to the fictional characters we know and love Than the random people we pass on the street Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables Pables My video game It's you, how dare you No, wait, it isn't you, is it? I... I suppose you'd better come in I'll... I'll unlock the door Thanks I know what you're thinking Evil twin, supernatural powers But most of the time, I just like to keep things basic I want you to understand that Like this Need to get your hands dirty No batteries, no moving parts Just physics That's technology you can depend on It's a classic Classic Speaking of classics You need to be careful with this one now If the victim suddenly twists You might end up cutting yourself It's not really a workhorse But I'm a sucker for this style Now this is more like it You've got slip-resistant grip But, believe me, you really want that traction Once you're wrist deep in somebody The blade's stiff enough So it won't open by accident in your pocket Yeah, probably 40, huh? Easy to open with just one hand Now that's a big thing for me I know what you're thinking It's too big Too heavy But sometimes you just need the extra oomph If you're talking intimidation This is gonna do the job Also great for dismemberings and whatnot You know They're messy jobs I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff Okay, now, guns Not a big fan I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that I take pride in what I do We can't both be worthless hacks, can we? Yeah, I want to cut it for you You have to forgive me, but this feels very strange It seems like this has all happened before I have the replacement part for your telescope, doctor I... All right Let's get it installed I... La... I thought it was automatic Don't I don't know Don't know Not a gun All right You know Just wanna use- If you want to use- On your own Every one Yeah, we want to use- ok garantisci la sicurezza delle tubature principali in questo è liberato il passaggio vediamo vediamo se riesco a saltare poi però devo fare il giro mi ha arrivato con l'oscurso qui oh scappa indietro un'altra è la che è bad ti brucio con la luce e basta ah due la volta di mitura queste bambine am i correct you should be able to turn on the lights and secure the area that way doctor can you hear me i think we're good to go all right i'll start looking for the signal please head back i'll start looking for the signal 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 Perti colpi. Perti colpi. Sì, un attimo, prendo le munizioni perché ho finito quelle del fucile. Perti colpi. 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 Che caga cazzo che era... Anche quello che era una festa... Va bene, raccogliamo lo stampato, dove cazzo è lo stampato, questo? Eh, si fa partire i cazzi che io lo vado in italiano, raga. Cazzo, mo' torniamo da capo, dobbiamo fare il terzo pezzo. Inche al drive-in dobbiamo andare, vabbè, che ori sono fatte? Mezzanotte. Vabbè, mettiamo il terzo pezzo, e poi sviluppiamo. Cazzo, che ciò che ha portato con lui a questo posto, è enough. Sirena è probabilmente out of her mind againi, ma io ne... To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. That key so I can get the power back on. You again? I'm really just here to get the key so I can get the power back on. You want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. A little wifey. Waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. See, di chi è meglio? Vabbè, non gli dico un cazzo, non gli dico che stai in piedi, rompi i coglioni che non sei altro. Accogliamo il bengala. Accogliamo le munizioni. Accendiamo la radio. Accendiamo le chiavi. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey Eddie, it's Ricky. You talked about faith before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Adesso provo a saltarli. Are you getting it yet, genius? Alex, mettono davanti. E' arrapata la tipa, è arrapata di brutto. Tazzozza. Ma cos'è che c'è dentro? Fucile a canne mozze, ma ti entro. Una roba da pussy. Fucile a canne mozze. Forbaccio di merda. Aspetta, va. Facciamo sto pezzato. Poi dobbiamo tornare indietro, credo, no? Get her! Grazie! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Questi saranno ancora fuori chi mi aspetta, no? Pazzo di merda, ho sempre odiato questo del tuo nuovo, entra nel locale di proiezione, guarda lui, prima non c'era questo, vabbè non mi pare di averlo visto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti